Buongiorno e benvenute a tutte. Anche oggi storie di professioniste coraggiose. Comincia questa giornata con un tocco di rosso. Sapevo che tu avresti messo un tocco di rosso. Così facciamo pandandia. Un po' di colore e di energia e passione a queste mattine in casa e quindi vi presento con piacere Emanuela Spernazzati. Mi sono ingrippata sul nome. Buongiorno e benvenuta a Storie di professioniste coraggiose. Buongiorno, grazie, grazie dell'invito e benvenuti a tutte. Allora cominciamo a entrare nel tuo mondo e quindi raccontaci un po' chi sei e che cosa fai, un po' la tua storia. Allora vi racconto intanto che cosa sto facendo in questo momento che è l'ultima versione di un lavoro che faccio da tanto tempo che però ogni tanto cambia così come piace a me insomma ogni tanto per cicli rimanere sulla stessa cosa però con un pochino di novità. Allora beh in questo ultimissimo momento ovviamente sono solo online però questo è solo per una circostanza che spero sia limitata. Quello che faccio ultimamente allora io dico un po' per spiegarlo perché mi sembra una metafora molto molto semplice così almeno riescono un po' a capire. Io lavoro un po' dai due lati della scrivania del responsabile del personale o del responsabile risorse umane nel senso che vado nelle aziende e il mio tipo di azienda ideale è l'azienda medio piccola che sta crescendo e si rende conto che non ha più bisogno solo di fare le paga e i contributi ma ha anche bisogno di cercare la persona giusta, inserirla bene, seguirla durante il percorso, magari strutturare dei percorsi di carriera che trattengano le persone che le rendano più contente di rimanere dove sono eccetera. Quindi qualcosa che si sposta dal gestione del personale al gestione delle risorse umane che non mi piace come come nome ma si chiamano così e quindi quando parlo di risorse umane i miei ex colleghi americani mi dicono che dovremmo parlare di persone però vabbè noi parliamo di risorse umane va bene. Quindi lato azienda faccio quello poi invece lato persone eh quello che faccio è io lo chiamo consulente di carriera, career coach, career counsel, un po' come volete mi capita spesso anche questo questo lavoro è nato proprio per caso mi capitava tantissime volte eh di incontrare persone che mi dicevano io ho un bel lavoro eh sono una buona posizione ho uno stipendio fisso ho un'azienda solida però io la sera quando vado a casa non sono contento ed è una cosa che puoi portare avanti per tantissimo per carità poi però a volte capita quel momento in cui sta cosa ti pesa e prendendo spunto dal fatto che io la mattata l'ho fatta io ho lasciato il tempo indeterminato eh full time azienda bella posizione HR manager di un'azienda internazionale eccetera per avviare questa di attività spesso mi chiedevano ma tu come hai fatto mi aiuti a farlo e da lì è nato davvero un po' per caso questo lavoro di consulente di carriera che significa aiutare un po' le persone prima di tutto a capire se è proprio vero che devono cambiare lavoro perché spesso mh vabbè utilizzando qualche piccolo strumento o livelli logici di details eccetera alcune cose si vede che ci sono degli aspetti del lavoro che non ti piacciono quindi eh adesso c'è una cosa molto carina che si chiama job crafting che ti aiuta a rimodellare quel minimo il tuo lavoro in modo che eh tu possa riacquistare un po' il piacere di lavorare infatti il mio progetto si chiamava si chiama ancora il progetto il piacere di lavorare e quindi tante volte si riesce a dare un po' a un po' a ristrutturare e rimanere un po' lì tante volte si affianca qualche cosa quindi si fa nell'ottica e e faccio questo però ho una passione ad esempio non so faccio il disegnatore meccanico però ho una grande passione per la fotografia e sono anche molto bravo quindi magari puoi cominciare ad affiancare e poi una bella analisi e si vede se ci si può lanciare in questa cosa quindi quando dico dai due lati proprio lato azienda e lato persona qualche volta all'interno della stessa azienda cioè l'azienda mi dice proprio eh vorremmo capire come mai alcune persone performano meno e un tempo si parlava proprio di high performer low performer come un po' fosse colpa del del dipendente che a un certo punto non voleva più lavorare invece secondo le logiche vabbè dell'agile ma di tante altre discipline si dice che certe volte non è che la persona non abbia più voglia di lavorare che magari la persona un po' è cambiata l'azienda è rimasta uguale o la persona è rimasta uguale l'azienda è cambiata o sono cambiata in due direzioni diverse e non c'è più quella quell'affiatamento e quel matching tra gli obiettivi dell'azienda e gli obiettivi della persona e quindi quando si vede che si sta andando in una in una direzione che non è la nostra a volte la la motivazione un po' cala e quindi si si vede se si riesce a riagganciare a volte ci sono degli spostamenti interni che rendono felice sia l'azienda una cosa che dico è se riesco a far fare la pace a lavoratore azienda collaboratore azienda funziona quello è quello che sto facendo un pochino adesso allora bellissimo mi piace un sacco di cose di quello che hai detto e spiego molto uno è il fatto che hai detto un po' per caso perché è vero a volte un po' ci si ascolta a volte così ci si trova nelle situazioni e guarda osservando la situazione ci si rende conto che quello che stiamo dando agli altri un aiuto concreto e poi effettivamente diventare una professione stiamo vedendo in queste nelle storie tutte le professioniste quanto alcune professioni nascono veramente un po per caso costruite su misura rispetto alle competenze del professionista ma anche a quello che ci sta richiedendo intorno diciamo il nostro mondo che somiglia poi spesso al mondo che va oltre anche la nostra cerchia di conoscenza due l'idea del cambiamento e ci sta che in un percorso professionale che sia da parte dell'azienda che sia da parte del professionista ci sia un cambiamento ed è bene l'idea che ci si può mettere in discussione magari invece di uscire dal contesto che a volte succede no uno arriva e arriva esaurito e lascia anche un'occasione che magari era una buona occasione perché laddove si può trovare un dialogo si possono trovare anche soluzioni se siamo disponibili ovviamente a metterci in gioco e quindi la tua figura diventa fondamentale quel trade union che però ha l'idea che vuol far vincere tutte le parti e non solo l'azienda o la persona anche perché dal lato azienda se perde un professionista una persona un lavoratore è comunque un problema anche di impatto economico per il lavoro per il lavoratore dover rimettersi in discussione in gioco in un mercato di lavoro che comunque non è facile è comunque una sconfitta per cui veramente trovo che il tuo lavoro in questo momento sia e sarà sempre di più secondo me nel momento in cui torneremo fondamentale perché le persone dovranno rifocalizzarsi gli imprenditori anche e ci vuole qualcuno che parli un po' il linguaggio di tutti e due tu hai questo vantaggio rispetto anche all'esperienza che hai esatto sì la cosa che mi è sempre riuscita abbastanza bene è proprio la negoziazione proprio essere in mezzo tra due obiettivi apparentemente discordanti e quindi spesso quando vado nelle aziende è il il punto è proprio far vedere la cosa da un altro punto di vista mi ricordo non so obiezioni come è nella nostra azienda ci sono persone che hanno una performance costante da dieci anni e non crescono certe volte dico beh insomma avere una performance costante per 10 anni se vanno avanti altri 10 avete una garanzia di successo poi ovvio se mi dici che questa performance è troppo bassa ci ragioniamo ma se mi dici che è una buona performance perché no insomma e quindi li faccio un po vedere perché invece è molto normale che si cali nella performance io spesso faccio il paragone della coppia quindi dico sempre al primo appuntamento siamo in versione demo è tutto fantastico è tutto bellissimo infatti per dirti per dirti un attimo il mio percorso è nato proprio all'interno delle risorse umane anche lì per caso perché quando io mi sono affacciata sul mondo del lavoro premesso che sono una persona un po indipendente per cui fin dai 18 anni ho sempre lavorato però lavorato il sabato insomma quindi avevo un po il vantaggio che avevo già fatto un po l'interprete un po la segretaria un po la commerciale un po di cose le avevo viste quando mi affaccio sul mondo del lavoro è proprio il momento delle si chiamano le agenzie di somministrazione quindi quelle che adesso sono le agenzie per il lavoro e quindi si trovava lavoro in quell'ambito io ho fatto i miei colloqui sono stata scelta cominciato fantastico mi piaceva tantissimo perché nella mia testa io facevo proprio un matching tra chi cerca lavoro e l'azienda che cerca quindi mi rendevo utile parlavo con le persone facevo tutti i giorni cose diverse perché un giorno cercavi un operaio il giorno dopo cercavi un commesso il giorno dopo un impiegato quindi era bello imparavo tantissimo per me imparare una motivazione incredibile e non lo sapevo ancora ma la cosa che mi piaceva molto era il fatto di poter vivere tante vite diverse perché io comunque conoscevo persone non so mi è capitato di selezionare medici e quindi imparavo delle cose qualcosina insomma vedevo un ambiente selezionavo saldatori tig mig cose incredibili che non ho mai visto e entravo nel mondo della produzione era bellissimo quando selezionavo gli operai però l'operaio alimentare quello metallo meccanico quello chimico sono tutte cose diverse quindi all'inizio poi le aziende erano molto disponibili ti facevano vedere l'azienda la produzione stavi con loro ore per capire quali erano i processi conoscevo tanti contratti nazionali diversi quindi assumevo con contratti era proprio bello e da lì poi società di selezione società di formazione quando sono diventata i char char manager che era penso che sia sogno di tutti ma comunque al mio sicuramente l'ho visto dall'altra parte quindi io prima vedevo le persone che erano felicissime perché trovavano lavoro quindi vengo da te siamo in 10 20 30 e tu scegli me non sceglievo io della verità li sceglieva l'azienda però vengo scelto io e quindi erano veramente contenti poi finalmente corona il mio sogno come si dice attenta i tuoi desideri perché magari si realizzano e comincia a vedere l'altra parte e quindi dopo la demo dopo l'effetto demo quindi assumo le persone poi piano piano queste persone super motivate che nel terzo colloquio quando fai la trattativa e ti dicono di sì ti stringono la mano sono felicissimi e dopo qualche mese cominciano essere un po meno contenti per cui l'ufficio HR ha anche quella parte in cui si è un po ufficio reclami e una cosa una cosa bella che mi avevano permesso di fare era aprire una sorta di sportello counseling ti dico perché io sono counselor certificata però insomma si poteva venire a parlare di qual era il problema in azienda con una grande fiducia da parte dell'azienda perché comunque tu vieni a parlare con me e io non riporterò alla proprietà perché rimane fra noi ma io cercherò di aiutarti per capire se a me venivano delle persone mi dicevano manuela io quando mi diverto più cambio lavoro aspetta parliamo e oppure mi dicevano e manuele questo benone però questa roba non la supporto quindi che cosa possiamo fare e allora si riusciva però ecco il pensiero è stato proprio questo pensa con quanta energia arrivano le persone e anche l'azienda è porta la sua energia positiva e poi piano piano questa cosa si si dissolve e certe volte ho pensato sai quando quando parlano di motivare dobbiamo motivare le persone e io che sono sempre un po dall'altra parte avere sempre un pensiero laterale pensavo ho capito motivarle ma se solo riuscissimo non ad aggiungere motivazione ma a mantenere quella con cui siamo partiti perché l'azienda super contenta perché ha trovato il dipendente super contento a riuscissimo ad arrivare così dopo qualche anno di collaborazione sarebbe fantastico quindi non tanto aggiungere motivazione ma prevenire questa disgregazione della motivazione e secondo me con una buona organizzazione un po di ascolto una buona comunicazione che come hai scritto tu è la mia passione si può fare si si può fare se sono d'accordo le sue due parti se ci sono le condizioni se ecco non è una bacchetta magica però si può fare quindi stato un po questa evoluzione diciamo che l'ascolto torna spesso no nel senso che tu sei partita dall'ascolto di quello che ti stava intorno e da quello che era anche diciamo qualcosa che ti veniva particolarmente bene e facile e così bisognerebbe introdurre questo strumento veramente anche all'interno delle aziende in tutti i suoi settori quindi sia diciamo nella parte organizzativa e amministrativa ma anche nella parte della produzione o comunque dei servizi cioè imparare ad ascoltarsi e ad ascoltare anche per formulare richieste che possono essere poi accolte e gestite perché a volte non sappiamo da dove nasce il malessere un'azienda appunto che ti dice sono dieci anni che questo va bene ma oltre a questo non va ok cosa mi stai dicendo perché mi stai dicendo che allora ne vuoi un altro che però fai picchi e vai giù cioè esatto l'ascolto e immettere questo strumento all'interno della modalità organizzativa è diventa veramente una chiave importante ovviamente la parte organizzativa d'altra parte io lavoravo in un'azienda di marketing digitale e secondo me il marketing ha fatto cose meravigliose se togliamoci dalla testa il marketing cattivo che ti fa comprare le cose che non vuoi però tutto quello che arriva l'epoca passato l'epoca della azienda centrata sul prodotto è arrivata l'epoca del azienda centrata sul cliente poi vabbè adesso dovrebbe essere quella centrata sul dipendente vediamo se poi è vero però se io vedo quanto le aziende si sono davvero messe ad ascoltare il cliente quanto il il customer care è stato quasi reinserito dentro al marketing perché ascoltando il cliente allora capisco di che cosa bisogna che cosa non va e quindi modifico il prodotto eccetera una delle mie idee quando poi ho detto ho deciso di avere la mia attività ma era proprio perché io pensavo delle cose e volevo proprio vedere se potevo realizzarle e tra queste cose che pensavo che all'epoca torni indietro 4 4 anni eccetera erano erano un po' strampalate come idee perché io dicevo che bisognava essere felice sul lavoro che bisogna essere centrati sul dipendente che le selezioni andavano fatte anche sui valori delle persone adesso si sente non so se si faccia ma si sente quando ho cominciato a dirlo sembra un po' una matta e allora ho detto vabbè io provo a vedere se questa cosa funziona ma gli strumenti di marketing se li dovessimo applicare l'ho sempre detto se la stessa cura che noi abbiamo verso il cliente noi l'avessimo verso il dipendente sarebbe fantastico è solo che se tu ascolti il cliente stai investendo tempo se tu ti fermi e dedichi 20 minuti a un dipendente che ti spiega un suo problema che magari poi scopri essere un malessere più personale che non lavorativo hai perso tempo e no non va bene cioè lo capisco lo capisco perché il cliente è fatturato invece il il dipendente fa fatturato insomma significa fatturato il dipendente però io dico anche il dipendente significa fatturato perché se lui non te lo fa il lavoro tu non ce l'hai da vendere e c'era un po' questa dicotomia cioè se io parlo con il cliente vado in visita dal cliente lo porto fuori a pranzo bene specialmente se un prospect quindi deve diventare cliente allora anche il pranzo se invece vedo vedo il il collega che ha sempre performato benissimo che a un certo punto per forma male se mi prendo mezz'ora gli dico vieni perché parliamo ho perso tempo non non lo so secondo me non va bene però lo capisco dal punto di vista del budget per carità è vero ma è un po come il fatto di doversi un po preparare come la storiella dei 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 due boscaioli che che fanno la gara per per chi taglia più legna però uno si ferma per affilare la lama dopo un po e l'altro no perché non ha tempo perché deve fare la gara e alla fine vince quello che si è fermato un attimo ma ti ha affilato la lava e dico se ci fermiamo un attimo per carità sempre in un'ottica di performance e di obiettivi carità però secondo me se ascolto subito quando il problema è ancora piccolo probabilmente riesco a risolverlo anche abbastanza velocemente in ottica già il proprio questo faccio un piccolo ciclo vedo che c'è qualcosa che non va lo metto a posto subito così posso proseguire se aspetto che diventi una cosa grande anche un'insoddisfazione grande poi faccio veramente fatica e il problema della persona insoddisfatta può essere un bel problema all'interno dell'azienda perché così come si dice che un cliente insoddisfatto fa più rumore di cento soddisfatti beh ma anche anche un collaboratore dipendente io amo chiamarlo collaboratore ovvio che quando vado in un'azienda strutturata in un certo tipo parlo di dipendenti però dovrei parlare di interdipendenti perché sono dipendenti a due vie comunque perché anche anche il datore di lavoro comunque quello che detto dei picchi è verissimo le persone mi è capitato di selezionare delle persone che avevano delle performance straordinarie però poi avevano delle ricadute pesanti e mi ricordo una volta un responsabile ero ancora giovenissima proprio avevo appena iniziato e un responsabile del personale di un'azienda grandissima mi disse signorina l'hai appena laureata signorina adoro quando mi chiamano signorina adesso signora però ma anche per sottolineare il fatto che ero senza esperienza no quindi mi ha detto lei mi viene qua mi propone queste cose adesso le spiego io come funziona come funziona la direzione del personale e mi ha proprio spiegato questo fatto lei mi porta i geni della lampada che vengono a lavorare per tre settimane e poi però per una settimana spariscono io però il contratto col cliente l'ho preso pensando che questa persona ci fosse in azienda quindi quando lui sparisce io non è che non abbia un guadagno in più io ho una multa quindi a una spesa in più quindi si ritenga che io faccio benissimo con le persone che sono affidabili che lavorano bene ma ovviamente con insomma mi ha spiegato questo questa parte che mi mancava e devo dire che da questa persona che mi ha un po mazzolata un pochino ho imparato veramente tanto e quindi sì l'ascolto è importantissimo sì mi sembra veramente importante anche perché anch'io sento tante persone che veramente in gamba che non sono ascoltate dalla loro azienda che magari non portano direttamente il problema a volte cercano anche di portare soluzioni perché a volte tra anche chi si inframezzano tra diciamo la parte più produttiva e magari il diciamo la la proprietà magari ha degli obiettivi diversi no quindi è fortemente concentrato sugli obiettivi e quindi come dire si perde ecco si perde anche le soluzioni perché a volte le persone portano anche le soluzioni non solo i problemi e soprattutto chi porta chi è abituato a portare le soluzioni cioè è quello che poi si concentra tutte le problematiche no quando c'è un casino lo mandiamo a questa persona questa persona risolve ecco quelle persone lì sono anche persone che a furia di dire si potrebbe fare così comunque sono collaborative portano soluzioni non problemi dopo un po queste persone veramente rischi di perderle perché si demotivano perché il loro apporto non è problematico non è lamentela e sappiamo tutti anch'io sono stata diciamo rappresentante di un legale di un'azienda per cui so quanto è faticoso con chi si lamenta continuamente perché tu hai devi far andare avanti una macchina importante cioè non puoi fermare tutto per la persona che si lamenta e magari sai che è proprio il suo mood non ha niente da che lamentarsi ma ha questa modalità e ti tira giù tutti gli altri è veramente faticoso essere anche dall'altra parte lo ammetto io ho fatto entrambe i ruoli e capisco perfettamente però quando a volte tu hai chi porta le soluzioni e non lo ascolti ecco quelle persone lì rischi di perderle sono veramente invece delle perle rare per cui l'ascolto non è solo sulle problematiche secondo me ma anche su chi poi agisce porta soluzioni questo hai ragione e sai una cosa che mi è successa più volte è che le persone più attente cioè quelle che si rendevano conto che c'era un possibile problema che c'era qualcosa che non funzionava spesso si vedevano addossato addossata la responsabilità di dover risolvere quella cosa perché loro l'avevano vista ma soprattutto c'era un problema di colpa cioè si partiva dicendo che è di chi è la colpa e si metteva queste persone in difficoltà perché è vero che se ti dico guarda che ho notato che facendo questo succede quest'altro quindi siamo a rischio perché ci è andato bene fino adesso però mi sembra in qualche cosa di rischioso e spesso a loro si dice si chiedeva dimmi di chi è la colpa e risolvilo allora dimmi di chi è la colpa vuol dire che dovevano andare contro un collega era una cosa che li metteva in grave in grande difficoltà e risolvido spesso mi dicevano e cavolo e io non sono capace di risolverlo da solo però è un po come visto che tu l'hai visto adesso fallo tu e mi ricordo un momento specifico in cui una di queste persone mi disse guarda Emanuela io d'ora in poi non vedo più niente perché è troppo difficile e invece creare una cultura differente che significa ok abbiamo visto questa cosa grazie a te che l'hai vista adesso la risolviamo quindi dai valore alla persona è un po' il mancato incidente in sicurezza faccio comunicazione del rischio è un po' quando non succede niente ma poteva succedere quindi rivedi le procedure perché ok si è stati fortunati però non possiamo sperare di essere fortunati anche dopo però è una cultura differente dire grazie che hai visto questa cosa non mi interessa di chi è stata la colpa è stata colpa di tutti perché è capitato anche a me che magari una ragazza che lavorava nel mio team sbagliassi o sbagliassi io anche nel caso in cui aveva sbagliato la mia collega è anche colpa mia perché si vede che non ti ho insegnato bene non sono stata attenta eccetera e comunque la colpa alla fine insomma non è così importante il fatto di dire ok possiamo è successo abbiamo sbagliato non succede niente però rimediamo tutti insieme altrimenti si creava però questa questa cosa difficilissima che era il fatto di visto che io ho visto il problema è diventato un problema mio no allora facciamo che non lo vedo sì perché chi poi ha voglia di prendersi in groppa la responsabilità di trovare una soluzione in più magari da solo perché spesso poi in azienda non hai anche come dire la responsabilità di gestire altre persone sei veramente da solo quindi non hai poi un team che ti aiuta a risolvere il problema per cui il rischio è ancora più grosso me ne sto zitto non dico niente poi succederà e a quel punto magari io mi sto già preparando sul piano B perché poi succedono tutte queste cose no allora mi piace molto che insomma il tuo intervento perché in questo momento ci sono tante persone che sono a casa e secondo me soprattutto quelle che erano un po' in sofferenza no nel posto di lavoro magari vedono adesso la prospettiva di tornare come qualcosa di molto pesante perché un po' è così quando stai a casa un po' ti rilassi no e vedi solo il bello e quindi magari ancora più angosciante l'idea di tornare al lavoro quindi cosa possiamo dire a queste persone cioè che tipo di suggerimento possiamo dare allora io farei intanto io propongo sempre una cosa una che forse non è così facile da fare da soli però si può fare è quella di capire effettivamente qual è l'aspetto principale che ci è in soddisfazione e in secondo in secondo ordine però dico questo noi spesso ci lamentiamo di quelle tre quattro cinque cose che non funzionano per cominciare però a lavorarci dobbiamo avere un po' di energia altrimenti non ce la facciamo quindi io do per scontato che quelle cose ci siano e siano vere però io dico fammi anche un elenco di tutte quelle cose che invece funzionano se non ci riesci torna indietro come lo faccio anche con le aziende per i dipendenti se non riesci a ricordarti cosa c'è di bello nel tuo lavoro torna al primo giorno quello in cui l'hai trovato il lavoro allora qualche motivo di soddisfazione sarà svanito ma tanti altri ci saranno quindi il fatto di avere un lavoro di avere dei colleghi non lo so di lavorare sotto casa di vedere tante persone di quello che vuoi insomma intanto alimentati con tutti gli aspetti positivi che ci sono e sono sicura che ci sono altrimenti l'avresti già lasciato ma perché il tuo corpo te l'avrebbe fatto lasciare sareste già stato male sul lavoro e poi prova a vedere un po invece quelle cose che non funzionano e la logica sarebbe proprio di cercare di ritrovare un senso una piccola modifica che faccia ti faccia vivere meglio il lavoro ma che sia in linea con l'obiettivo aziendale quindi questo dovrebbe riuscire a modificare un pochino le cose fatto da solo mi rendo conto che che non è semplicissimo magari ti puoi far aiutare da una persona di cui ti fidi e che può vedere le cose insieme a te poi dico va bene se proprio ci siamo resi conto che non è più il lavoro che fa per noi allora si può cambiare con estrema calma io dico sempre con calma valutando valutando bene razionalmente quando poi l'atto razionale ti ha dato ragione mettilo da parte vai col cuore buttati però prima una bella analisi la puoi fare ma sono sicura che facendo un'analisi fatta bene magari con qualcuno tra le cose che funzionano e quelle che non funzionano ma veramente tutto anche il fatto di una bella postazione di lavoro vado a lavorare in centro e vedo o non so dove insomma tutti quegli aspetti che un po ti nutrono che ti piacciono se volete cercatevi la piramide di deals online la trovate e cerca anche qualcuno con cui parlare come hai accennato sul sul post che hai fatto ho appena creato un gruppo che si chiama parliamo di lavoro è stato creato per questa emergenza in cui le persone sono a casa magari hanno poco contatto l'obiettivo questo si raccoglie un sos che riguardi lavoro alla settimana e chi vuole ovviamente scelgo nel gruppo si si fa avanti nel gruppo qualcuno che sia esperto in quel settore da insieme a me una risposta tutto gratuito nessuna pubblicità da da parte di nessuno e nient'altro è pensato per questo periodo insomma in cui poi vedremo se la gente interessata proveremo ad andare avanti abbiamo risolto problemi tecnici dal devo mandare un cv ma non ho la linea a casa e non so non so fare il tethering la prima cosa è stata non dirmi di fare il tethering perché non sono capace a a problemi un po più complessi devo spostare la mia attività da offline online ovviamente diamo solo delle idee perché facciamo dei piccoli interventi di dieci minuti eccetera però diamo delle idee su come sviluppare questa cosa e l'abbiamo sia in facebook sia in linkedin sicuramente durerà fino a che non riusciamo a tornare a lavorare benissimo questo mi sembra uno strumento molto concreto per confrontarsi con tanti professionisti che in questo momento stanno mettendo a disposizione le loro competenze e anche confrontarsi con problemi assolutamente pratici e concreti che spesso diventano per qualcuno un muro insormontabile e quindi andiamo a come dire trovare risposte soluzioni quando si può e diamo un energia sono assolutamente come se non l'energia bassa fa fatica ovunque perché poi in quella che quei suggerimenti che tu hai dato dobbiamo sempre ricordare che conosciamo bene quello che abbiamo e quello che viviamo quello che sta fuori non lo conosciamo minimamente per cui a volte anche un po i pro e contro o quello che è un vantaggio in questo momento che possono essere le relazioni la vicinanza il il tipo di lavoro il contesto lo stipendio perché poi ognuno si fa i problemi rispetto a magari una cosa l'altra ecco quella è la nostra certezza fuori non sappiamo cos'è cosa c'è per cui prima anche di prendiamoci del tempo per ragionarci confrontiamoci con qualcuno ci sono tanti professionisti emanuela stessa che può accogliervi in questo processo di riflessione di ascolto di voi perché magari potreste scoprire che la soluzione è molto più semplice di quanto immaginate e magari non vi richiede un cambiamento grossi perché a volte quello che spaventa di più poi è cambiare il cambiamento può essere anche positivo se accompagnato e se ci rendiamo conto che in realtà si può trovare una soluzione quindi incominciamo a ragionare in soluzioni e non in problemi esatto non 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 il consiglio che posso dare che di non fuggire così ma di costruire una soluzione e a volte guarda che mi è capitato spessissimo che venissero in consulenza di carriera per dirmi voglio cambiare e che poi mi dicessero no ho trovato lì se l'azienda è un minimo accogliente ce la fai certe volte no però tantissime volte tantissime volte non hanno cambiato lavoro poi io trovo anche che a volte sei inserito nel contesto e quello che porti è magari qualcosa che hai fuori dal contesto quindi può essere che quello poi diventi il posto invece dove stai bene e magari scopri che quello che devi risolvere è fuori per cui anche lì può essere che poi la tua certezza rimanga al lavoro poi ho visto anche tante persone che nel momento in cui si sono come dire hanno fatto un'analisi quindi sono riusciti razionalmente e diciamo sulla parte emotiva a comprendere che quello magari non era più il loro posto è diventato anche più come dire piacevole andarci perché nel momento in cui tu stai costruendo il tuo piano b quello lì diventa la priorità perché magari l'aspetto economico importante perché magari hai abbassato un po' anche le emozioni negative e quindi poi come dire ci stai ci stai dentro quindi il fatto di uscire ti permette di avere la tranquillità magari economica e magari di uscire anche con una bene perché poi se fuggi ti lasci dietro una storia un po' come l'amore no una storia scusa male che poi ha delle ripercussioni si può anche chiudere bene una relazione professionale e questo al nostro futuro professionale assolutamente assolutamente questa mi sembra una cosa centrale e comunque ci sono mille soluzioni puoi prendere l'energia da fuori da un qualcosa che costruisci fuori puoi investire meno emotivamente non intendo dire lavorare meno bene ma non sperare di avere tutto quello che ti serve dal lavoro infatti il diagramma stella del manager dice che non dovrebbe ricevere tutta l'energia vitale solo dal lavoro ci sono gli amici sono le passioni ci sono ci sono tante cose a volte io ho riscontrato che ci siano persone che erano talmente innamorate del loro lavoro che avevano solo quello ovvio che ti cambia il capo ti cambia la situazione non vai più d'accordo e ti crolla tutto veramente tutto ma in realtà poi analizzando è perché lì nel lavoro avevi amici famiglia lavoro è tutto lì e che finché va bene va bene però è come non diversificare gli investimenti monetari insomma quindi sono persone che magari avevano delle performance pazzesche però appunto una cosa qua noi non possiamo controllare l'esterno e tutto quello che non siamo noi è esterno già facciamo fatica a controllare noi figuriamo sia l'esterno quindi appunto ti cambia il capo quello che arriva quindi non è più il tuo amico il tuo confidente è così e ti crolla tutto ok allora ti ricostruisci queste cose qui in altro ambito però il lavoro non è stato se ci ragioni il lavoro non è stato toccato quindi semplicemente ricostruisce un po di quella stella a varie punte che teoricamente dovremmo avere tutti e quindi si può fare questa quello è stato uno dei casi in cui la persona poi si è resa conto che no in realtà il lavoro andava bene è solo che appunto se mi viene a mancare l'amico quello con cui andavo a pesca quello che allora vai ancora pesca con lui che che lavora da un'altra parte e li vai a lavorare non è semplice io lo sto mettendo in maniera semplice semplice stiamo dando degli input poi chiaro che il processo anche per arrivarci un processo lungo e per questo ci sono anche professionisti che possono aiutare io dico sempre cioè non tutti ci arriviamo da soli e non importa il livello diciamo anche professionale dal top management al alla produzione tutti abbiamo bisogno di darci del tempo e darci degli strumenti tutela tra l'altro ne hai più tanti una serie quindi io invito anche le persone andare a vederli perché sono comunque abbastanza intuitivi o nel web possiamo capire di cosa si tratta è un'ultima cosa anche se abbiamo un po sforato col tempo perché io sono vabbè come avrete capito molto in linea con emanuele ma è anche una cosa che so cui tu tieni no e che che vedo anch'io e cerco di portare c'è quel discorso del equilibrio vita lavoro cioè la nostra vita è fatta delle cinque stelle adesso delle scusa cinque punte cioè la nostra vita include il lavoro il lavoro fa parte di se noi continuiamo a cercare disperatamente un equilibrio vuol dire che siamo in disequilibrio vuol dire che non stiamo bene e quindi questa che non so che una cosa qui tieni è anche dare quest'ultimo sì sì la cosa che dice la cosa che scrivo spesso e smettiamo di parlare di equilibrio tra vita e lavoro perché le parole sono importanti dicendo che dobbiamo combinare vita e lavoro è come se noi dicessimo che il lavoro è morte che il lavoro non ha vita se ci pensiamo è ovvio che andiamo a lavorare per avere lo stipendio però l'ambito lavorativo è un ambito nel quale noi riusciamo ad esprimere delle cose di noi che non potremmo esprimere in altri ambiti quindi il non lo so qualsiasi cosa noi fa il caporeparto l'operaio l'impiegato eccetera sul lavoro riesce ad avere un ruolo che non può avere in famiglia perché non sarebbe corretto l'insegnante che dovesse rivestire questo ruolo e dovesse fare sempre la maestra con suo figlio sua figlia non andrebbe bene quindi pensate anche a quante persone io ho avuto l'esempio di mia mamma che quando è andata in pensione è veramente crollata perché il ruolo lavorativo per lei era fondamentale allora il lavoro ha una sua importanza poi ovviamente andiamo per per avere lo stipendio va benissimo ma non andiamo solo per quello prendete qualche qualche libro qualche articolo è così quindi se noi cominciamo a pensare che anche il lavoro è un pezzo di vita però deve essere con il piacere di lavorare insomma dobbiamo avere qualcosa indietro oltre allo stipendio e avere un po di realizzazione personale poi ci sono tutte le varie teorie della motivazione che possiamo applicare però secondo me se cominciamo a pensare che andando a lavorare abbiamo un qualche cosa uno spazio in cui possiamo esercitare una parte di noi che altrimenti non sarebbe esercitata allora allora cominciamo a pensare che che bilanciamo la vita privata con la vita lavorativa e questo mi piace e questo va bene abbiamo trovato quindi la giusta definizione bilanciamo e non cerchiamo anche perché stare in equilibrio mi già mi dà già l'idea di una fatica incredibile no cioè ognuno l'equilibrio se lo vede nel suo io che vengo dalla danza classica mi immagino la punta c'è tutto il corpo la testa cioè siamo tutti concentrati per stare in equilibrio se siamo concentrati solo su stare in equilibrio perdiamo di vista tutto il resto per cui c'è tutta quell'energia invece bilanciamento in generale significa anche stare bene nei vari contesti e che tutti i contesti in qualche modo abbiano un'armonia ti ringrazio tantissimo grazie a te metterò insomma le tue indicazioni quindi dove trovarti anche questo gruppo che è sicuramente uno strumento molto utile in questo momento per tutti quelli che hanno un dubbio hanno una necessità possono trovare risposta da professionisti anche come manuela e quindi poi mettiamo nei commenti di tutto quanto sì mi trovate comunque in facebook e in linkedin come manuela spernazzati poi dopo ci sono le pagine però mi trovate tranquillamente sul social che preferite connettetevi chiedete perché anche lei è a disposizione in questo momento per dare quella visione che vi può veramente far cambiare un po diciamo magari quel malessere che state vivendo in questo momento e incominciare a costruire una una situazione diversa partendo da voi certo grazie sarà un piacere connettermi con con tutte voi con tutti voi grazie mille grazie ciao ciao anche a voi ciao ciao